Di Marcello, dopo una settimana di riposo vi attendono due match importanti, domani contro il Colonia, partita infrasettimanale, mercoledì contro il Padova, capolista insieme al Bologna. Sì, dopo aver effettuato una settimana di stop per gli impegni della Nazionale, si rinizia domani con una partita molto importante in casa contro il Colonia, che sta affrontando un ottimo campionato, è un punto dietro a noi, però già ha osservato il turno di riposo che prevede il campionato, naturalmente una partita di vitale importanza. E per quanto riguarda il Padova, voi venite anche da una sconfitta di un mese fa contro il Bologna? Sì, diciamo che il Padova è un po' la sorpresa di questo girone fino a questo momento, è una neopromossa come noi, però ha effettuato grandi risultati, e tant'è che si trova a pari punti con il Bologna appunto. Noi non vogliamo sicuramente ripetere quello che è successo un mese e mezzo fa contro il Bologna in casa, che è stato l'unico passo falso fino ad oggi di questa nostra stagione, che è tutto sommato positiva, perché ci vede in seconda posizione, appunto distanziate solamente di un punto dal Bologna e dal Padova attualmente. Sicuramente queste due partite diranno tanto, perché saranno importanti, perché alla fine di queste due partite appunto ci si ritroverà una classifica molto più delineata. Speriamo naturalmente di cogliere entrambi i risultati positivi. Non sarà sicuramente facile, però come appunto anche la società ci ha detto, vediamo una partita alla volta, iniziamo da domani sera per cercare di prendere questi due punti e poi, se casomai, si vedrà dopo per Padova. Voi tuttavia siete in buona forma, dovreste giocare al completo domani? Sì, diciamo che la forma per il momento ci assiste, i giocatori a disposizione del tecnico sono tutti gli effettivi, quindi ci stiamo allenando, ci siamo allenati bene e arriviamo a questo match nel migliore dei modi. Sappiamo che le partite di palla a mano sono abbastanza dispendiose dal punto di vista fisico. Domani il Padova riposa, appunto serve il suo turno di riposo, quindi andremo sabato a Padova, che loro vengono proprio da due settimane in stop. Però, come dicevo prima, intanto pensiamo domani al Cologna. Cosa vi preoccupa di più del Cologna? Hanno un'ottima difesa? Sì, il Cologna fino a questo momento ha dimostrato di avere un'ottima difesa, una difesa molto arcigna. Dal nostro punto di vista, fino ad oggi, stiamo un po' soffrendo nella fase d'attacco, quindi sicuramente sarà dura a scardinare la loro difesa, però, come ho già detto prima, non possiamo più ripetere passi falsi al Palaggio Giubinchi se vogliamo cullare un sogno che ad oggi è ancora possibile. Ricordiamo l'appuntamento per domani per tutti i tifosi. Sì, si gioca domani alle 18.30 al Palaggio Giubinchi. Noi siamo lì, se volete, siamo molto felici di accogliervi nel nostro catino e cercare di vincere insieme questa partita.